E' il Deportivo Aperitivo! Eccoli qua! Ma non... però io... oggi siete riconoscibili! Gaia ha fatto di repletta! Il terzo gol è alla Ibra! E' una volta in cinque campionari! Però non avete come prenderla contro Gaia! Alla faccia di Luigi e Gabriele la vostre offensi perché non vanno a salire! Ma rendi conto, ciò che fa lo dice sempre... Ho esultato alla Balotelli! Ecco, e poi mi esulta alla Balotelli sta merda! Ma che non hai messo un capello! Insomma, è la prima volta che ha fatto tripletta! Forse nemmeno in Serie C, nemmeno in Serie C forse ha fatto... Io ho fatto più gol! Bisogna vedere negli almanacchi di non so quanti tempi Gaia o Triunacchi! Gli almanacchi... Invece la partita a primo tempo 2 a 2... Nel Sancto Stefano degli Spartans è già male! Si! Ha fatto male! 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 C'è l'ultima gioia di campionato! C'era giochiamo con Epic Aspirina per il posto Ishii! Aspirina è che non ce l'hanno facile! Giocheranno... Aspirina c'erano... Coglio Blacks! Non ce l'hanno facile! Noi siamo contro il butto! Coglio Epic! Vizzuto! Punisci! Castigami! Va va va! Va va! E Galactico sono vinto! Va bene! Non c'entra niente! Dire migliore in campo chi è stato a sto punto! Difede! Ragazzi! Neanche si dice! Secondo me è Difranco perché ha fatto fare i gol! Difranco non sei se... Ehm... Sono io! Difranco oggi capitano! Difranco oggi capitano! Difranco oggi capitano eh! L'hai visto? Difranco capitano? Ah! Sì! Non c'è da mattina! Se mi metto 7 e mezzo... Facciamole a qualcuno! Difede dov'è scappato! Difede dov'è scappato! Difede sei andato! Figo! Eh vabbè! Difede! La prossima! Dillo contro chi l'abbiamo! I The Bulldog! I The Bulldog! C'è questo pizzuto che Aiello conosce! Ma posso fare qualche domanda io? Posso con la telecamera? Che vuoi! Gli la concediamo? Gli la concediamo? Fai la domanda Manu che ti... Ah io la vado a scappare io! È sua quella! Ho capito! Ma pure io! Posso? Difede! Ivan vuole tenere la telecamera! Che dici tu? Lo vuole fare Ivan? Il telecameraista! Se ti prendi quattro di me! Questa cosa per la mia volta! Eh vabbà! Poi hai imitato Gabbo! Io ho imitato Gabbo? No! Gabbo pure l'ha fatto! Ma qualche domanda tecnico da! Sì ma senza... Michele la mattina! I deportivo... Vanno! Anche loro mancava un pezzo importante! Perché c'è la taglia! Però dai! Fa l'appoggiatore! L'appoggiatore! Ma male che c'è la borsa qua che mi para! Ah! Non è che sei qua! No! 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 E niente! E niente! Un po' è vero! Un po' è vero! Un po' di lacri! Filippo Di Fede siamo ai play out! Di solito è l'ultima giornata Di Fede gioca in attacco! Questa volta... No! Non scherziamo! Non scherziamo! No ma anche Serie B è successo! Anche l'anno scorso se non era! Eh! Oh! E' un burlone! E' un burlone! Vabbè ragazzi siamo in chiusura! Ah una cosa! Ma... Giochiamo a mente! Oh! Sì! Due volte... Due volte di merdi! Eh! E' che... E' che... E' giocando... Ma io goditi la trepetta! Dico! Fira la setta! Oh! Oh! Chiudiamo! Ma le riprese le fai! Le burlate eh! Le burlate eh! Ma anche già sta! Comunque se andate che... I sugo punisci! Eeeh... Vivo! Elfish! Bulldog! Aspirino! Comunque... Non sono scarsi dei Bulldog! Ma la domanda non sape rispondere! Non ci stiamo sottovalutando! Deportivo! E' bravo! No perché siete qua! Ti giuro! Beh! Secondo me ora fai il nuovo pistai eh! Se perdiamo la prossima partita! Eh beh! Ma poi cerchiamo un pezzo! Le domande di Gaglio! Si! Non ho risposto! Vabbè ragazzi siamo in chiusura! Eeeh... Ci vediamo! Alla prossima! Un bacio a Gabriele e Luigi! Minchia se voglio... E' un coglione! La testa di me! La mamma di Gaglio sempre e comunque! Rosalia! Pignone! Vadoci Gaglio! Gitta! Gitta!